Allora, ho sbagliato, ti chiedo se dovete andare a fare parte, quindi ci diamo... Sì, c'è le quattro, giusto. Giusto. Tra un po' fitto. Tiri giù. Ma non so... Allora, siamo qua, a peschiera, vicino alla... Alla gelateria. Ci vediamo quando sarò alla gelateria e ho ordinato il gelato. Alla dopo. Allora, sto fissando qualche scarpello. Adesso non è la cuina, che prenderò il vestito per il matrimonio. E' l'ho, eh? Tra un po' vado da... Ah, vado a mangiare il gelato e ci vediamo lì, che aspetta mia zia con mia cugina. Dopo farò vedere mia cugina. No, budù niente perché... Allora, non prendo. Questa è un canto dell'anale di latte. Grazie. Perché si è presa anche la panna. Ti si è preso anche il fondo. Il fondo di cioccolato. C'è pure il fondo di cioccolato. Cioccolato bianco e cioccolato normale. Io prendo il cioccolato bianco. Bianca. Cosa è fatto? No. No. buono? no no, va a metterlo buono buono allora ci vediamo quando quando c'è il gelato vediamo quando ha preso il gelato sono distrutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.